...la primaria, portiamo questo cartellone che ricorda tutti i gesti e i momenti condivisi con Don Carlo. Battesimi, comunioni, cresime, matrimoni e soprattutto quando stavo in mezzo a noi bambini. Signore, grazie per averci mandato sulla terra una persona così buona, generosa e gentile come Don Carlo. Signore, accorglino ora tra le tue braccia in cielo. Caro Don Carlo, sei arrivato tra noi come un grande papà e te ne sei andato come un tenero nonno. Nella scuola dell'infanzia eri sempre il benvenuto, ogni volta che tornavi tra noi i bambini ti correvano incontro, ti abbracciavano e aspettavano con gioia i tuoi dolcetti. Ti avvicinavi a ciascuno di noi chiedendoci, allora come va? Tutto bene? Facendoci sentire parte del tuo essere padre, consigliere e ministro di Dio. Chiedi ai bambini i nomi dei loro genitori, dei loro nonni, ricordandoci momenti di festa condivisi con le famiglie di Santa Maria, matrimoni, battesimi, comunioni e cresime. Oggi siamo qui per salutarti, ora rimarrai sempre con noi, qui nel paese che tanto hai amato e aiutato a crescere nella fede. Grazie Don Carlo, proteggici dal cielo, sarai sempre nei nostri cuori.